Ciao, creatura! Io sono Eccate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Gulae, A-S-M-A. Allora, questa sera andrò a mostrarti i regali di Natale che ho ricevuto durante queste feste. Allora, alcuni sono stati fatti dai follower anche, perché mi era stato chiesto di mettere su Instagram la wishlist di Amazon e qualcuno ha pescato anche da lì dei regali. Altri invece sono di parenti. Allora, ti mostro subito, 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 questo perché lo puoi vedere anche se c'è il microfono davanti. Adesso lo spostiamo. Questi accessori per le camicie che ho tratto l'idea riguardando i film di Harry Potter, notavo che su Lucius Malvoy c'erano questi accessori. Le guardavo e dicevo, però, niente male quell'accessorio per camicia. Così sono andata a cercare su internet se effettivamente esistono o se era solo così messo perché il personaggio aveva quella particolarità lì. Esistono e quindi li avevo messi nella lista desideri di Amazon perché avrei avuto piacere di comprarmeli più avanti e uno dei miei creatori e uno dei miei creatori me li ha regalati. Sono questi qui. Sono più di uno e praticamente sono spille. Io adesso sto indossando questi che sono come due cervi e hanno queste catenelle qui molto carine perché inizialmente avevo iniziato a indossare delle collane sopra la camicia e mi piaceva molto l'effetto che davano. E però questi accessori sono ancora meglio perché sono anche tra l'altro fatti apposta. Le ho già indossati vari. Allora c'è questo. Ovviamente c'è la coppia. C'è questo che si mette sulla punta. Del colletto. Si mette sulla punta del colletto. Ovviamente come ho detto prima ce ne sono due. Poi c'è questa qui. Che è proprio una spilla. Che va appunto messa sempre. Così. E poi ce n'è un'altra con la catenella. Che ho indossato il giorno della vigilia di Natale. E sono sempre dei triangolini. Però anche questo è la combo triangolini e catenella. Bellissimo. Questi li userò tantissimo perché sai come sai bene in teoria. Adesso io ho la passione per le camicie. Infatti ho questa qui che è. La mia preferita attualmente. E ho visto che esistono questi accessori per camicie. Sia fatti così a spilla. Sia fatti anche a orecchini a clip. Adesso sto utilizzando un make up neutro. Dove faccio solo la base. E metto il blush, l'illuminante. E nient'altro. Mi piace perché sta molto elegante. Con questo nuovo, diciamo, look che mi piace. Insomma è molto estetic, elegante. Non so, mi piace, particolare. Ok. Poi mia cugina. Una delle mie cugine. E mi ha regalato questo anellino di legno che gli fa lei. Il negozietto su Instagram si chiama Etere. E' molto bello, particolare. Gli fa lei con legno, li dipinge. Siamo tutti artisti in famiglia. Ma questo maglione è veramente bellissimo e morbido. Ma soprattutto un maglione strano. E' verde scuro. Ha il cappuccio di pannolenci. Che sembra abbia tipo un frontino. Non lo so, è stranissimo. E per quello mi piace. Ha addirittura la cerniera. Quindi è un misto tra un maglione e una felpa. Praticamente le due cose che indosso di più. Sopra le camicie. Poi ho ricevuto questo berretto di lana. Che non si vede perché è nero su sfondo nero. Quindi top. Però ha il pompon. Mi hanno detto di vera pelliccia. Non so se sia vero. Non credo. Però è super morbido. Voglio provarlo sul microfono. La dico non. Credo che sia vero. Perché mio Dio scherza sempre. Ed è stato proprio lui a dirmelo. Quindi. Perfetto. Questo verrà utilizzato anche come trigger. Che poi tra l'altro ho scoperto un nuovo trigger. Ma non te lo faccio sentire più tardi. Questi cioccolatini motta. Con all'interno la crema di nocciole. Questa confettura fatta in casa da mio cugino e la sua compagna. Confettura di pere, noci e cannella. Ah sì. Plot twist. Adesso mi piace la cannella. Prima non mi piaceva. Ma da quando ho mangiato quei biscotti al cocco e cannella mi piace. Quindi il giorno della sera della vigilia di Natale ero dai cugini. E mio cugino e la compagna oltre ad aver regalato queste confetture fatte in casa. Avevano portato anche una deliziosa torta con la cannella. E io l'ho mangiata e mi è piaciuta. Quindi sto cambiando i gusti. Sorprendentemente. È così. Poi mia cugina, un'altra lato anticugini, mi ha regalato questo stuccio fatto a mano da lei. Noi facciamo tutte cose a mano. Io avevo fatto i biscotti quest'anno a forma di pan di zenzero a casetta. I pan di zenzero però li avevo fatti alla vaniglia e li avevo decorati con il cioccolato al latte e con degli succherini al lampone che se mi segui su Instagram hai visto che avevo acquistato al Lidl e le casette invece le avevo fatte al cacao con cioccolato bianco, berinca e cioccolato al latte. Sono venuti buonissimi perché le ho assaggiate. Quindi mi ha regalato questo stuccio fatto da lei perché durante il lockdown si era comprata una macchina da cucire e si è appassionata a imparare a cucire e quindi ha creato questi astucci che questa stoffa è bellissima ha anche la fuda all'interno è una bua bellissima, mi piace tantissimo questa fantasia e poi all'interno c'era anche questa crema per le mani e per il corpo al paciuli che tra l'altro non ho ancora aperto c'è ancora la protezione ma si sente ugualmente il profumo è buonissimo poi è venuta la cucina che sta a Parigi io non so se questo l'abbia preso proprio a Parigi ma penso di sì perché c'è scritto Bistro de Paris quindi forse ho la presa in stile Parigino ed è questa scatola un po' shabby chic per tenere tutte le tisane e i tè all'interno e lei lo sa che ho questa passione per le tisane e quindi ha messo anche all'interno delle tisane gusti che non ho mai assaggiato e tranne quella del pistacchio che però adoro e adesso guardiamo insieme che tisane ha messo allora ha messo questa qui che ho già assaggiato pistacchio mandorla con scorza di limone che è buonissima però la preferisco all'interno del latte caldo piuttosto che dell'acqua perché è particolare sembra come una cioccolata calda tipo però non è al cioccolato però non so come dire una bevanda calda il gusto pistacchio più avvolgente nel latte caldo poi questa ponomelli infusi fruttosi 100% naturali papaya arancia che mi son bevuta l'altro giorno ed è veramente buonissima sa proprio di papaya si c'è anche l'arancia ma l'arancia ha un gusto talmente tanto tra virgolette banale che mi sono gustata molto di più il gusto della papaya ha quel gusto un po' tropicale che a volte sentiamo nei succhi di frutta quelli tropical poi questo gusto senza il cocco tra l'altro da notare che l'abbinato al cocco ha il colore verde è sempre fatto apposta come se l'avessi fatto io in questa grafica perché mi piace sia il cocco che il colore verde lo zenzero un po' meno però spero che non si senta molto dello zenzero non mi piace il fatto che sia piccante e mi fa tipo tossire mi fa mi da tipo come un prurito alla gola spero che non abbia questa cosa perché se no mi va a rovinare la tisana al cocco di cui ho sempre tante aspettative dal profumo non non capto alcun segnale ma né di cocco né di zenzero quindi e poi questa uva uva nire fragola ma penso che ci metterò cercherò di farci stare anche le mie tisane qui dentro perché io sempre appena l'ho aperta ho detto oddio l'ho sempre desiderato un portatisane e quindi il regalo che desideravo è stato bellissimo riceverlo con anche le tisane dentro cioè proprio quasi ai livelli di ricevere una camicia come regalo che non ho ricevuto comunque spoiler e poi c'era anche questo sempre la salita cucina che ci ha preso con tutto e è un burro cacao al cocco della Sephora il packaging è interessante perché sembra credo che sia fatto di cartoncino l'esterno l'interno non credo però l'esterno è tutto cartoncino quindi è riciclabile profumo buonissimo che buono che buon profumo senti che è di cartoncino mi sono tagliata le unghie perché mi trovo molto meglio così a fare tutte le mie cose quest'anno ho fatto la festa di Natale a casa mia e ho invitato mia sorella e i miei genitori dopo più di 30 anni o più di 25 anni sicuro che i miei genitori non fessero un Natale insieme tra di loro cioè nella stessa stanza entrambi ecco e ho fatto organizzato tutto io è stato bellissimo anche mia sorella mi ha ringraziata insomma non se l'aspettavo non ho fatto da mangiare ho preparato anche tutti gli addobbi anche le luci insomma chi mi segue su Instagram qualche cosina l'ha visto e sono stato molto contenta aiuto poi si ci sono altri toni un'altra zia mi ha regalato questo maglione che poi ho indossato il giorno di Santo Stefano abbinato a questa camicia ci stava da Dio mio cugino ha detto che ero vestita da Hogwarts io l'ho preso come un complimento anche perché mi ha fatto sorridere il fatto che io avessi preso spunto delle spille da Malfoy Lucius Malfoy quindi era come se mi avesse letto nel pensiero e niente ha un maglione lungo svolazzante senza bottoni senza nulla che io chiuso con una spilla da palio perché dovrò procurarmi anche una spilla un po' stile Hogwarts insomma molto carino questo che tra l'altro insomma se guardi ci si abbina molto bene con questa camicia senza farla apposta perché lei questa camicia non l'aveva mai vista mi ha regalato questo paio di pantaloni invernali sì un colore non molto nei miei canoni diciamo però li ho indossati e mi vanno bene mi tengono calda quindi penso che potrei ogni tanto mi indossarli nonostante non siano colori che io di solito indosso cioè mai però per cambiare un po' look ogni tanto magari devo andare in qualche ufficio così così e ci sta me li tengo lì mi possono servire magari abbinati nel modo giusto potranno essere molto estetic questa bottiglia di Lambrusco dell'Emilia e questo gel che mi ha regalato mia zia ecco qua gel bagno doccia nutritivo con olio di cocco idratazione profonda pelle secca reidrata nutre e deterge la pelle intensamente con la sua rivoluzionaria formula arricchita con olio di cocco evitando che la pelle divenga secca e disidratata per azione della doccia quotidiana ottimo perché se tu hai qualche problema e vuoi farmi qualche regalo ma non sai cosa prendermi basta che scegli un prodotto qualsiasi al cocco e sei sicuro quindi i miei parenti cos'è al cocco e sono sicuro sono sicuro molto buono non sa proprio di cocco sa più da un profumo però molto buono e poi sembra stessa zia mi ha regalato anche queste pastiglie leone ma sono il gusto anice io non so se mi piace un corcetto non so se mi piace l'anice aspetta allora lo dico perché prima ho fatto tutto quello spiegone sulla cannella no la cannella non mi piaceva adesso mi piace l'anice non mi è mai piaciuto ma potrebbe piacermi adesso potrei assaggiarlo certo che se mi piace sarebbe la svolta perché io ho sempre ripudiato i ghiaccioli quelli blu all'anice e adesso potrei mangiarli ho tolto la confessione blu azzurra non blu e dentro è così giallo una di quelle caramelle di una volta pastiglie dicestive disse tanti leoni dal 1857 per la pubblicità ma io li ho già mangiati questo gusto mi ricorda qualcosa mi sa che l'ho già mangiato queste caramelle è piccola ecco non mi dispiace neanche l'anice perfetto ho cambiato totalmente i miei gusti sono vecchio yeah finalmente sono davvero univore adesso perché totalmente mi piace tutto basta che sia commestibile io lo incursito va bene poi un follower mi ha regalato questo gioco che però ancora non ho avuto il piacere di giocare perché nessuno vuole giocare con me dovrò obbligare qualcuno quando andrò a Roma che è exploding kittens un gioco di cardio per chi ama gattini esplosivi gattini ed esplosioni e raggi laser e a volte anche capri e devo mostrare l'ultimissimo regalo sì dai non sono male queste caramelle dobbiamo aprire anche un regalo insieme è vero perché non l'ho aperto su Instagram che non l'ho fatto in tempo perché poi ho dovuto preparare tutte le cose per la vigilia per Natale per tutto e quindi dobbiamo anche aprire un regalo insieme giusto quindi questo è il penultimo direttamente dalla mia lista di wish di Amazon da un follower laboratorio di saponi profumati che proveremo in un video visto che vi piacciono tanto i video dove proviamo le cose insieme tutorial video creativi ASMR ecco qua ringraziate chi ha fatto questi doni coltmeri perché grazie a coltmeri faremo anche un video cioè godremo del suo regalo tutti insieme appassionatamente qualcuno ha aggiunto l'ho sentito l'ho sentito digestivo per caso quella che me ne mi ha fatto ruttare non è veramente digestivo ok allora un piccolo pensiero per una persona splendente felice natale che i tuoi giorni possano sempre essere migliori rispetto al giorno prima che bell'augurio sei fantastica da tali sono per pulirsi il viso forse sì sono fatti così con una specie di ventosa ma anche che si possono prendere così anche secondo me sono quelle per pulire il viso che ho preso sia per pulire cioè che ho messo nella lista sia per pulire il mio viso io per fare roleplay senti che bel suono questi forse si possono usare anche per pulire i pennelli però perché essendo di silicone con queste parti qua voglio provare una cosa ogni volta è no vabbè adoro è così è che mi sono trucca mamma mia è super rilassante è super massaggiante il viso vi provo a fare uno scrub con questi secondo me è top molto belli grazie mille Dali e poi ti faccio sentire l'ultima cosa poi ti lascio andare a dormire creatura e ci salutiamo perché questo sarà l'ultimo video di quest'anno ho trovato questo nastrino che forma un fiocco su un pacchetto regalo ed è super smr suona una cosa wow di qua è tutto sbrilluccicoso e non lo so misto tra stoffa e plastico non so mica spigarti cos'è bisogna che lo dovresti toccare sbrilluccoso Bellissimo Cosa ne pensi creatura? Qual è stato il regalo che ti è piaciuto di più? Che avresti voluto ricevere anche tu? Fammelo sapere con un commento Lasciami un like, iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto Attiva la campanella mi raccomando Cercherò di portarti sempre più contenuti anche un po' più privati Anche se per quelle cose seguimi su Instagram E che poi nel 2022 voglio fare degli incontri anche con i followers Però per quelle cose lì seguimi su Instagram Spero che questo video ti abbia intrattenuta e ti abbia tenuto compagnia ma anche rilassata Io ti auguro buonanotte Buon relax Ciao creatura